un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo dalla via crucis per leggervi una lettera del 1917 1917 padre pio si trovava qui a san giovanni rotondo e padre pio scrive ad una sua figlia spirituale assunta di tomaso ad assunta lui scrive riguardo all'esercizio interno di cui mi scrivi credimi altro non è che una vera insensibilità infatti padre pio parla di una insensibilità spirituale la quale ti priva del godimento non solo delle consolazioni ed ispirazioni ma ancora della fede della speranza e della carità e sebbene sei adorna di queste virtù oppure non ne sperimenti veruna consolazione e se sei come un fanciullo il quale ha un tutore che lo priva dell'amministrazione dei suoi beni di modo che sebbene egli sia il vero padrone nulla amministra e gli sembra non possedere altro che la propria vita come dice san paolo essendo padrone del tutto egli non è in ciò dissimile dal servo già che mia cara figliuola dio non vuole che tu senti sensibilmente il sentimento della fede speranza e carità né che tu ne godi se non quanto basta per servirse nelle occasioni ahimè quanto siamo felici di essere noi tenuti strettamente dal nostro celeste tutore scrive padre pio non dobbiamo fare altro che ciò che facciamo cioè di amare la divina provvidenza ed abbandonarci nelle sue braccia e nel suo seno figliuola imprimitelo bene nella mente essere cioè questo un gran punto della santa religione quello di contentarsi solo degli attimi semplici ed insensibili esercitati per mezzo della volontà superiore come sarebbe supremo grado di astinenza il non mangiare mai se non che con disgusto e contro la volontà